Musica Tre spettatori ben ritrovati con informazione di Telediogene, apriamo con la cronaca. Marco Panaglia, 24 anni, risulta disperso dal pomeriggio di ieri dopo essersi immerso nelle acque di Crotone antistanti Capocolonna. Il giovane si è immerso senza bombole a dare l'allarme. È stata la famiglia del giovane intorno alle 21.30 e subito sono iniziate le ricerche ad opera di tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone. Da stamani nell'operazione è impegnata anche un elicottero della polizia ed è arrivata una squadra di subacui, dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. Alle 13 di ieri un ragazzo di 24 anni, Marco Panaglia, figlio di una persona conosciuta a Crotone, un vigilo urbano, è venuto qui. Era abitudine che venisse qui, in questo specchio di mare, per praticare la pesca subacui. Lo faceva per abitudine, era pieno di salute, pieno di vita e quindi è venuto qui a immergersi per praticare quello sport che da sempre lo aveva appassionato. Era da sola perché già tol'auto di fronte a questo ristorante come faceva, come faceva sempre. Da quel momento di lui si sono persi le tracce, sarà stato colto da un malore. Non si capisce, nessuno sa niente. I genitori, intorno alle 20, poi sentirete il racconto del padre, visto che il figlio non arrivava, preoccupati, sono venuti qui con l'altro fratello. E hanno visto che la macchina c'era, hanno cercato. Di Marco non c'erano tracce a quel punto. Hanno chiamato alle forze all'ordine, alla cabaterina di Porto. La cabaterina di Porto è intervenuta, ecco lì c'è un gommone, come vedete, con i sommozzatori che stanno cercando di trovare Marco, di individuare. La cabaterina di Porto tutta questa notte sta sondando, sta vedendo se ci sono tracce di questo ragazzo. Sono Andrea Montepurri, Vigili del Fuoco, vedete che insieme alla cabaterina di Porto, tra poco arriveranno anche i sommozzatori della cabaterina di Porto. Nella speranza che si possa trovare questo giovane in vita, casomai in vita. È stato chiamato anche un esperto sommozzatore civile, probabilmente, perché conosce gli anfratti, conosce le grotte, i buchi che ci sono qui in questa zona. Si spera che non sia successo, nulla di grave, lo speriamo anche noi per questa famiglia crotonese di gente che fino a ieri alle 20 era tranquilla. Parecchie volte, il padre diceva, gli avevamo detto di non venire da solo, però i figli non si può imporre nulla, la volontà di vivere non si imporre, lui si sentiva sicuro, era pieno di vita. A 24 anni si pensa di non soffrire di nulla, di essere immune a qualunque tipo di malattia, a qualunque tipo di malore. Forse è questo, se fossero stati in compagnia probabilmente oggi non avremmo fatto questo servizio di cronaca, non ci sarebbe stato bisogno di fare niente, perché i malori, si sa, a mare possono capitare e quando c'è il soccorso, subito, si interviene e si risolvono i problemi. Da ieri pomeriggio questo signore, Antonio Panaia, vigile urbano molto conosciuto a Crotone, non ha più notizie del figlio. Marco Panaia, 24 anni, è venuto a Capocolonna, era un sub prometto, è venuto a Capocolonna per fare una battuta di pesca, qui nella zona dove c'è il ristorante dell'Ancora, alle spalle della chiesa, è venuto, come faceva spesso, come spesso faceva, e dopo di che, che cosa è successo? Ci siamo preoccupati perché lui di solito non tardava, quando faceva queste battute, verso le 20 ci siamo preoccupati perché già... Di solito quanto stava fuori casa? Non stava molto, per questo motivo... Maio d'ore, lo faceva in apnea comunque. Per questo motivo ci siamo allertati, quindi è venuto mio figlio che sapeva più o meno ai posti che lui bazzicava, ha trovato la macchina... L'altro figlio, l'altro figlio... Sì, l'altro figlio, che è più grande. Ha trovato la macchina e a quel punto ci siamo allarmati tantissimi. La macchina era parcheggiata dove? La macchina era parcheggiata a antistante del ristorante. Il ristorante, era qui di solito, è una zona che conosceva perfettamente, perché si immergeva perfettamente. Cioè, le altre volte... Era molto esperto pure. Era un provetto? L'unico inconveniente che purtroppo veniva spesso da solo. Anche ieri era da solo? Anche ieri era da solo. E questa è la cosa? E questo noi l'abbiamo sempre disapprovato, però lei sa benissimo che... Con i figli non c'è niente da fare. Speriamo che sia un malore che sia da qualche parte che venga trovato sano e salvo. Insomma, speriamo che sia così. Speriamo. Ci sono più imbarcazioni, come vedete, dall'altro lato che lo stanno cercando, stanno cercando i ragazzi. Si era creato un po' di attenzione, perché questo gommone ha chiesto l'intervento. No, i sommozzatori che erano qui hanno chiesto l'intervento del gommone. Ma non ci pare che trasportino nulla, stanno risalendo sul gommone. C'è stato anche riferito che fino a qualche minuto fa c'era anche un aereo che sorvolava la zona e quindi controllava se si vedeva qualche corpo, se si vedeva qualcuno a mare. Finora pare che non sia stato trovato nulla. Le ricerche continuano, perché vedete lì, le ricerche continuano. Per fortuna il mare non è molto mosso. Come abbiamo detto, alla ricerca ci saranno anche i vigili del fuoco, i sommozzatori del vigili del fuoco che si stanno preparando in questo momento. Scendono con il gommone, sono appena arrivati. Mentre gli uomini della Capitaneria di Porto con altri stanno già intensificando, stanno già lavorando da ieri sera per cercare di individuare il ragazzo, speriamo, ripeto, vivo. E con la speranza che presto Marco Panaia possa essere ritrovato, proseguiamo con le altre notizie. La Regione Calabria ha riconosciuto l'aumento dell'assegnazione del carburante ad uso agricolo per sopperire alle necessità venutesi a creare a seguito del periodo siccitoso che si sta verificando nel mese di settembre. Lo comunica l'amministrazione provinciale di Crotone, presieduta da Stano Zurlo. Pertanto tutti gli uffici territoriali provinciali di Crotone, Ciro Marina e Petilia Policastro saranno a disposizione per l'assegnazione supplementare del carburante agricolo durante gli orari di ricevimento al pubblico. A seguito di un incontro al quale hanno partecipato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Crotone, Emilio Candillota, il dirigente del settore Gianfranco De Martino, il direttore dei lavori dell'impresa che sta eseguendo i lavori di regimazione delle acque in via Gioacchino da Fiore, il rappresentante della ditta Autolinea Romano, sono state adottate misure che andranno in vigore il prossimo lunedì 15 settembre per consentire l'ingresso di alunni e docenti all'Istituto Santoni in considerazione dei lavori che si stanno effettuando nella stessa strada. È stato previsto l'ingresso carrabile pedonale all'Istituto mediante il cancello di accesso per gli uffici della stazione unica appaltante con arretramento della recinzione dei cantieri con viabilità percorribile all'incrocio semaforico. La fermata degli autobus extraurbani proveniente da Catanzaro sarà effettuata in Piazza Gandhi. Gli alunni e i docenti potranno accedere attraverso il percorso pedonale libero dall'ingresso principale dell'Istituto senza essere obbligati all'attraversamento di via Gioacchino da Fiore. I bus continueranno il percorso verso Crotone da via Gandhi e via Giovanni Paolo II per la stazione di via G di Vittorio. La fermata di Piazza Gandhi verrà utilizzata dai bus anche per la corsa di ritorno degli utenti all'uscita di scuola. Verrà assicurato il servizio di vigilanza del traffico da parte dei vigili urbani nelle ore di entrate e di uscita. È stata inoltre aperta alla viabilità la corsia di via Falcone direzione centro città che era stata temporaneamente chiusa per consentire la realizzazione della rotatoria al quadrivio della chiesa di Santa Rita. È stata inoltre sistemata per la viabilità la strada interna di via Parco che dal quartiere Tufolo porta al quadrivio di Santa Rita. L'assessore alle politiche sociali del comune di Crotone Filippo Esposito comunica che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per soggetti interessati ad interventi socio-assistenziali domiciliari e servizio di assistenza domiciliare in AD. All'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Crotone con la relativa modulistica seguirà poi il bando che sarà consegnato alla stazione unica appaltante dopo aver accertato il numero dei richiedenti le prestazioni previste. In vista delle elezioni provinciali era previsto per ieri un incontro del centro-sinistra ma è saltato per la improvvisa morte del segretario del circolo PD di Castel Silano. Non si è tenuto il tavolo del centro-sinistra per iniziare la discussione ufficiale per la scelta dei candidati alla provincia. Non si è tenuto perché ieri improvvisamente per un collasso cardiaco, per un infarto è venuto a mancare il segretario del circolo cittadino del PD di Castel Silano di Buono. Nessuno se l'aspettava, questa è una brutta notizia quindi per rispetto a Di Buono che tra l'altro avrebbe dovuto partecipare all'incontro di ieri. Quindi gli attori del tavolo del centro-sinistra hanno deciso di rinviare questa riunione a oggi pomeriggio. Però non si è tenuto il tavolo ma una discussione è iniziata, un confronto anche non ufficiale è iniziato su dove si può andare a parare per la scelta del Presidente. E due sono state le ipotesi affrontate. Una, scegliere un candidato che supera tutte le eventuali altre candidature. queste ipotesi portano il nome di Vallone all'interno del centro-sinistra. Però la candidatura di Vallone potrebbe avere un limite. Cioè quale potrebbe essere il limite della candidatura di Vallone? Vallone resterebbe in carica come sindaco un anno e mezzo, poco più di un anno e mezzo e alla scadenza del suo mandato di sindaco dovrebbe dimettersi anche da Presidente della provincia. In questo caso il centro-sinistra sarebbe chiamato di nuovo, il centro-sinistra e il centro-destra sarebbero di nuovo chiamati ad eleggere un nuovo Presidente. Con il rischio che se a Crotone poi dovesse cambiare l'area nella provincia di Crotone dovesse cambiare l'area attualmente il centro-sinistra ha la maggioranza potrebbe diventare di maggioranza il centro-destra quindi perderebbe il Presidente della provincia. E allora, a seconda ipotesi qual è? Quella di puntare a un candidato che possa stare lì quattro anni e da questo assunto che parterà la discussione di oggi del tavolo di centro-sinistra bisogna fare presto perché il 22, a mezzogiorno del 22 scadono i termini per presentare le liste e quindi molto tempo per discutere per verificare, per smussare non si hanno il tempo non c'è più o si va presto o si rischia davvero di arrivare a questo appuntamento impreparati senza candidatura o con più candidature e fare perdere al centro-sinistra che è la maggioranza fare perdere il Presidente della provincia anche se il Presidente della provincia che sarà nominato non avrà grandi spazi di manovra economica non ce ne sono soldi come dice Vallone probabilmente dovranno dichiarare il dissesto finanziario per chi va alla provincia sarà questo il primo compito che avrà da fare quindi però ci sono tante persone che sono pronte a ricoprire a indossare questa maglietta di Presidente l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Popolare del Mezzogiorno riunitesi a Crotone ha approvato la fusione per incorporazione della Società Banca Popolare del Mezzogiorno S.P.A. nella Società Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa lo riferisce una nota della Banca Popolare del Mezzogiorno il Consiglio regionale ieri sera a conclusione di un lungo dibattito ha approvato la nuova legge elettorale regionale ne parliamo con i consiglieri regionali Salvatore Pacenze e Francesco Sulla rispettivamente di Forza Italia e PD Finalmente la Calabria ha una legge elettorale che non confligge con la Costituzione non ha requisiti anticostituzionali quindi questa legge elettorale approvata questa notte a che ora? Sì ieri intorno alle 20 e 30 grosso modo 20 e 15 20 e 30 finalmente si è riusciti a rispondere alle prescrizioni che il governo aveva fatto rispetto alla legge approvata il 3 giugno scorso approvata il 3 giugno scorso c'erano due aspetti anticostituzionali il consigliere supplente è la allora sì il consigliere supplente per farci capire dei telespettatori è una variazione dello statuto non della legge elettorale e rispetto a questo la regione Calabria ha presentato ricorso quindi ritenendo che il consigliere supplente debba esserci per quanto riguarda il consigliere supplente è quel consigliere che subentra quando uno diventa assessore diventa assessore viene sostituito dal primo dono eletti di quella circoscrizione per quanto riguarda invece la legge elettorale il governo aveva eccepito rispetto alla soglia di sbarramento per le coalizioni che possono entrare in consiglio regionale e rispetto alla percentuale il 3 giugno la legge prevedeva che per entrare per eleggere rappresentanti in consiglio uno schieramento doveva raggiungere il 15% minimo il 15% allora questo tipo di percentuale è stato ritenuto non costituzionalmente corretto mettiamola così e allora il consiglio regionale preso atto di questa prescrizione ieri ha corretto portando la soglia di sbarramento all'8% c'era stato nell'incontro di Capigruppo un accordo anche con l'opposizione con il PD si parlava del 5% poi in consiglio la cosa non è andata in porto così come prevedevo questo accordo che è successo cosa sia successo ieri c'è stato un pochino di bagarre non so se definirla preelettorale o perché i colleghi del PD ritenevano più congrua una percentuale differente però sono arrivati in aula i consiglieri del PD con una proposta presentata ieri direttamente che voleva far ritornare la legge elettorale alla condizione precedente al 3 giugno il presidente ha eccepito perché questo rischiava veramente di far slittare la data delle elezioni che ormai come sapete è stabilita deve essere soltanto firmato il decreto di indizio manca il decreto però non è ancora ufficiale potrebbe anche esserci a dicembre a Natale quando non c'è il decreto giusto il 15 noi sappiamo sapremo quando si vota i calabresi sapranno quando si vota il 15 di settembre formalmente è giusto quello che dice lei perché deve essere ancora firmato il decreto di indizione però la presidente facente funzioni si è espressa chiaramente per il 23 ma si era già espresso per il 12 ottobre poi il 12 ottobre si era già espresso si lo so però poi ci sono state una serie di avvenimenti fra cui le primarie istituzionali le primarie del PD che hanno in definitiva determinato agli avvenimenti non poniamo limiti agli avvenimenti non poniamo limiti però teniamo conto dei fatti abbiamo la legge elettorale finalmente finalmente anche se questa legge elettorale approvato nella tarda serata di ieri dal consiglio regionale della Calabria non ha trovato la condivisione per quanto riguarda la soglia di sbarramento da parte del PD io voglio precisare una cosa intanto la legge elettorale la regione Calabria ce l'aveva se no non sarebbe potuto votare negli anni passati siccome molti dicono finalmente abbiamo una legge regionale elettorale la legge elettorale c'è sempre stata il problema qual era? che questa maggioranza di centrodestra che guida la regione Calabria ha intesa modificarla la legge che c'era con la quale abbiamo votato cinque anni fa ha inteso modificarla noi eravamo come partito democratico come centrosinistra non eravamo d'accordo a cambiare le regole della partita quando la partita era già cominciata perché praticamente siamo in fase pre-elettorale e quindi cambiare le regole in corsa non ci sembrava corretto diciamo diciamo più chiaramente fino al 3 giugno scorso c'era una legge elettorale che poi è stata modificata dal consigliore regionale della Calabria questa questa legge approvata il 3 giugno non era non era in regola con i dettami della costituzione italiana e il governo l'ha impugnata una parte quindi a quel punto eravamo quasi senza legge perché era una legge la precedente era stata modificata quella approvata il 3 giugno non era costituzionale eravamo senza legge ecco perché diciamo sempre in questo modo ieri è ritornata in consiglio per le modifiche sulla base dei rilievi fatti dal governo nazionale sì e io reinsisto nel senso che la legge elettorale secondo noi non andava cambiata con la partita in corso punto perché è chiaro che se tu metti delle regole le regole non devono essere legate a quel momento le leggi si devono fare devono servire per sempre chiunque governi allora si possono modificare se cambiano alcune condizioni che cosa è successo che allora il prima del 3 di giugno la maggioranza ha deciso di alzare la soglia cioè il numero di voti la percentuale che le coalizioni devono prendere per entrare in consiglio regionale cioè praticamente per poter entrare in consiglio regionale mentre la legge che avevamo prevedeva che si poteva entrare se una lista prendeva il 4% e una coalizione c'è un insieme di liste il candidato presidente diciamo così prendeva il 5% invece loro l'hanno voluto portare al 15% questa soglia del 5% questo è il 3 giugno il 3 giugno per cui è chiaro che il governo ha eccepito dicendo no è una soglia troppo alta e tu impedisci lo svolgimento della partecipazione cioè dell'elezione garantendo la partecipazione anche di forza che insomma il 15% non ce l'hanno il 15% è una bella soglia e quindi il governo ha sollevato questa eccezione per impedire che noi andassimo a votare con una legge che era ancora sotto il giudizio della corte costituzionale si è deciso di rivedere questo parametro in consiglio regionale si è andata a discutere su quale percentuale fosse la più idonea noi come partito democratico avevamo votato contro le modifiche che avevano fatto allora la modifica che assegnava al presidente della giunta la possibilità di indire l'elezione mentre prima era il prefetto della città capoluogo variare queste soglie di accesso quindi queste percentuali che i partiti devono raggiungere per accedere la maggioranza del consiglio insomma una serie di cose che noi abbiamo detto per esempio noi eravamo per introdurre il voto di genere cioè di dare anche alle donne la possibilità di partecipare con una loro preferenza esatto alla pari quindi però abbiamo detto se non siete d'accordo su questa cosa qui facciamo una riforma ma facciamola partire dalla prossima legislatura cioè non con questa partita ma con l'altro campionato perché tu non puoi cambiare a seconda di come ti conviene cambi le regole in questo momento per cui noi avevamo votato contro quindi noi eravamo per la soglia del 4 e del 5% come era prima adesso invece la maggioranza ha voluto portarla all'8% prima l'ha portata al 15 adesso l'ha riabbassata all'8 per cui ieri è stata approvata questa decisione che una coalizione c'è un insieme di partiti o il candidato a presidente deve prendere l'8% per poter avere diritto a aver assegnato seggi in consiglio e invece i partiti restano al 4% 4% sì c'è un'altra cosa da dire che i capigruppo nella conferenza dei capigruppo c'era stato l'accordo col PD questo è un falso storico questo è un falso che se il centrodestra la smettesse di speculare di fare cose che non sono vere farebbe bene perché la gente deve essere informata chiaramente noi ieri non abbiamo votato nessuna modifica perché eravamo per la legge come era prima e abbiamo fatto una proposta di tornare alla legge come si è votato 5 anni fa fra l'altro ha vinto il centrodestra 5 anni fa quindi voglio dire con le stesse regole potevamo andare a votare che cosa è successo invece nella conferenza di capigruppo il nostro capogruppo siccome io ero presente quindi posso parlare ha giusta ragione il nostro capogruppo ha detto per noi la proposta è questa e cioè di tornare alla legge come era prima perché abbiamo votato contro le modifiche perché dovremmo rivotarle oggi se però c'è una discussione che è necessaria per sbloccare diciamo il rapporto con il governo eccetera eccetera valutiamo però questa è stata la prima posizione che ha avuto l'onorevole Sandro Principi il nostro capogruppo poi sono intervenuto io più nella discussione e ho detto per noi la posizione del PD è questa cioè noi assolutamente siamo per la legge come era prima quando ci siamo alzati questa era la decisione se poi il centrodestra si era già preparato qualcosina che pensava che noi inciuciassimo con loro siccome ormai c'è sta cacchia di moda che devono far passare che noi inciuciamo con il centrodestra no il centrodestra e il centrodestra ha fatto una legge ha fatto bene se prende gli applausi ha sbagliato se prende gli applausi noi siamo altra cosa ci siamo opposti a questa decisione del centrodestra ed eravamo per la legge come era prima la vogliamo modificare la legge elettorale modifichiamola introduciamo la preferenza ma per la prossima competizione cioè uno la qualità lo deve sapere prima quale sarà la legge elettorale non mentre la partita è in corso si dice se il calcio d'angolo si batta così o il ricorre si batta a 14 metri invece di 11 non ci andava bene insomma questo Elezione per il rinnovo della giunta regionale della Calabria all'orizzonte si prospetta una significativa novità quanto meno dal punto di vista etico sentiamo di che si tratta Da Roma rimbalza la notizia che Matteo Renzi e la segreteria del PD potrebbero chiedere al partito calabrese al partito democratico calabrese di non di non candidare persone che hanno avuto avviso di garanzia la notizia è rimbalzata da fonti autorevole da Roma per cui se se qualcuno ha in corso procedimenti giudiziari anche un semplice avviso di garanzia che non sono stati chiariti con una soluzione procedimenti è in corso allora ci sarebbe ci potrebbe essere questa scelta del partito democratico di non candidare nemmeno quelli che hanno avviso di garanzia questo perché per quanto sia verificato in Emilia Romagna il PD nazionale vuole dare l'idea che chi si candida a governare le regioni è pulito questa è l'idea che vuole dare quindi anche persone che hanno avuto un semplice avviso di garanzia che può non significare niente potrebbero avere lo sbarramento da parte del partito democratico l'altro ieri sera i carabinieri di Rocca Bernarda hanno tratto in arresto un 72enne originario di San Mauro Marchesato Domenico Madia per porto illegale di arma da fuoco ad un posto di controllo in località Lense il Maida è stato fermato a bordo di un veicolo a tre ruote e da subito ha palesato un ingestificato nervosismo da qui la decisione dei militari di procedere ad una curata perquisizione personale e veicolare anche in relazione del fatto che da una verifica effettuata presso la banca dati il Maida risultava essere gravato da precedenti penali proprio in materia di armi la perquisizione ha dato esito positivo in quanto è stata rinvenuta nella tasca del soggetto una pistola Beretta calibro 7,65 con il colpo in canna più un ulteriore caricatore da otto colpi mentre all'interno del veicolo sono stati recuperati tre petardi del peso medio di 100 grammi 8 ultrass della squadra di calcio del Bari tutti con precedenti di polizia secondo quanto riferito dagli investigatori sono stati denunciati dalla polizia di stato alla procura della repubblica di Crotone per violenza e minaccia pubblico ufficiale lancio di oggetti contundenti e danneggiamento i tafferugli risalgono alla partita del 3 giugno scorso tra le squadre delle due città valevole per i playoff per la promozione in serie A in quella circostanza detto in un comunicato della questura di Crotone un gruppo minoritario di ultrassi pugliesi dissociatosi dalla stragrande maggioranza dei tifosi si assieparono nella zona retrostante la curva nord dello stadio e si scagliarono contro gli steward minacciando le forze dell'ordine alcuni in particolare ranciarono bottiglie contro le forze dell'ordine bottiglie che erano state trafugate da un bar ubicato nel settore ospiti dopo che il titolare del locale minacciato e colpito con un pugno da un ultrassi era stato costretto ad abbandonare l'esercizio commerciale grazie all'opera di mediazione di personale della Digos e di Crotone Bari conclude la nota la situazione tornava progressivamente alla calma permettendo il regolare deflusso dallo stadio sono in corso le procedure per l'applicazione delle misure dei DASPO in merito all'utilizzo che verrà fatto del finanziamento di 1.200.000 euro annunciato in questi giorni dal ministro dell'ambiente Galletti per la bonifica dell'area industriale ex Pertusola incontriamo l'assessore comunale di Crotone all'ambiente Michele Marseglia 1.200.000 euro per la messa in sicurezza dell'area ex Pertusola sono stati dati dal ministero dell'ambiente a Crotone questa notizia è stata ufficializzata nel corso di un incontro che tra l'altro ha visto partecipare l'assessore all'ambiente del comune di Crotone il prefetto la dottoressa Tirone il prefetto di Crotone e il sindaco di Crotone Peppino Vallone sì e come dice lei questo in effetti è un ragionamento che era stato già avviato in quanto per quanto riguarda il sito Pertuso il sito industriale sono state fatte tutta una serie di pozzi che riguardano la barriera idraulica naturalmente essendoci un'area privata all'interno di questo sito era rimasta scoperta l'area ex-sasol e quindi sono iniziati dei tavoli istituzionali affinché visto che l'ex-sasol voglio chiedere c'è un fallimento in corso e quindi le risorse necessarie da utilizzare per la creazione di questi pozzi è stata una cosa difficile il sindaco ha chiesto al prefetto di convocare un tavolo istituzionale e sua eccellenza che voglio dire che voglio ringraziare pubblicamente in quanto anche al raggiungimento di questo obiettivo la presenza di sua eccellenza il prefetto ha dato il suo contributo sicuramente e quindi in prefettura quando ci siamo riuniti tutti gli enti preposti regione, comune, provincia alla presenza anche del curatore fallimentare il dottore Antonini il professore Antonini sua eccellenza ha detto ma penso che trattandosi del ministero dell'ambiente manca la persona giusta che è il dottore Pernice che è il direttore generale del ministero dell'ambiente ieri mattina siamo andati al ministero dell'ambiente anche se il giorno prima il dottore Pernice aveva fatto un comunicato stampa come ministero dell'ambiente dicendo che a Crotone sarebbero toccati un milione 200 mila euro ieri mattina diciamo che abbiamo sancito questo all'area ex Sasol all'area ex Sasol per la realizzazione dei pozzi anche per il mantenimento dei pozzi questo per far sì che questi pozzi una volta messi al regime tutti insieme si può fare anche la statistica si può capire si può capire il monitoraggio il termine giusto non la statistica dei pozzi e dell'inquinamento che vi all'interno dei pozzi ma con un milione e duecentomila euro si fa poco no per i pozzi va benissimo perché è una piccola aria che va realizzata non è una grande aria vanno fatti dei carotaggi vanno fatti dei pozzi poi quest'acqua il problema non è tanto la realizzazione dei pozzi quanto i carotaggi no non è nemmeno quello perché siccome è stato fatto un protocollo di intesa con il nucleo industriale e queste acque vengono smaltite sono i costi di smaltimenti per un determinato periodo per un lungo periodo insomma una volta usati i pozzi con queste cifre praticamente realizzeremo questi pozzi e quindi il mantenimento di questi pozzi quindi un milione e duecentomila euro per realizzare i pozzi in attesa in attesa di mungimento come si chiama? pozzi di mungimento si chiama la realizzazione non ha grosse cifre perché alla fine è una trivella che buca e poi alla fine si crea il post ma è tutto l'allaccio e lo smaltimento delle acque naturalmente ieri mattina la cosa più importante che è venuta fuori perché queste risorse magari si doveva preparare un protocollo di intesa si doveva preparare tutta una serie di si doveva essere tutto un iter burocratico che avrebbe sicuramente allungato i tempi il sindaco lì per lì voglio dire subito ha ribadito dicendo che essendoci aperto un APQ un accordo di programma quadro tra comune, regione e province questi soldi transiteranno su quell'APQ che è destinato sempre agli interventi di bonifica sul sito e quindi nel momento legisterà la legione l'indattuatore e il comune passeranno tramite la legione però voglio dire arriveranno al comune l'importante è che arrivano perché voglio dire facendo così sono subito disponibili e quindi voglio dire ci appresteremo anche a definire questa barriera idraulica che è un altro tassello che si aggiunge a quelle che sono le apprezzioni di bonifica con delibera numero 118 la giunta comunale di Cotronei ha approvato la realizzazione dei lavori di sistemazione del tratto di strada comunale di località Carusa l'ufficio tecnico ha predisposto un progetto esecutivo che prevede interventi per un importo complessivo di 25 mila euro continuano le attività di pronto intervento e soccorso delle tartarughe marine caretta caretta presso il centro di recupero dell'area marina protetta a Capo Rizzuto nella giornata di ieri è stata liberata una tartaruga marina ha soverato sovereto luogo del suo ritrovamento avvenuto il 25 luglio scorso da parte di un diportista parzialmente nuvoloso visibilità ottime vento di 16 nodi il tempo previsto per domani su Crotone e provincia ed ora vediamo il bollettino nautico del Marrioni ho tempo vento da sud-destra forza 4 isolati temporali visibilità discreta localmente cattiva mare mosso vento da sud tendenza vento da sud forza 4 isolati temporali bene io ho terminato vi ringrazio per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni